261 al suono della campana, solo al suono della campana, sulla Filippo Marco Bologni, sulla Trust, Trust in me. Viene cambiato, è stato cambiato il tempo massimo della prima margina, 77 secondi, 77 secondi, the time allowed is changed, now is 77 secondi. A clear round for Oralee Wetterstein, no fault. E quattro sono invece le penalità per Giampiero Garofano a questo punto. ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.